Ciao, oggi parliamo di Harvest di Neil Young. Neil Young è un artista americano anche se di origini canadesi. Quest'album è stato pubblicato nel 1972 dalla Reprise Records e siamo nell'ambito folk rock, country rock. Guarda qua il simbolo dell'etichetta, magnifico. Tra le dieci tracce racchiuse nell'album troviamo le famosissime Harvest, Old Man e Heart of Gold. Quest'album è uno dei più celebri e apprezzati dall'autore. La traccia numero 4, Heart of Gold, diventa uno dei simboli di maggior successo dell'artista, raggiungendo la prima posizione billboard dell'epoca, del 1972. La sua influenza perdura nel tempo e queste canzoni sono ancora molto apprezzate al giorno d'oggi. Se per caso non lo conosci ti consiglio un ascolto dettagliato, perché è un album molto avvolgente, molto caldo. In questo album troviamo un sacco di stili musicali, tra i quali il rock, il folk, il country. E Neil Young ha lavorato con un gruppo di musicisti per la creazione di questo album chiamati The Stray Gators. Dovrebbero essere questi qua, l'immagine al suo interno, favolosa. Quest'album è considerato uno dei capolavori dell'epoca. Ci vediamo alla prossima, ciao!